torna arte padova nei padiglioni della fiera una delle manifestazioni artistiche più importanti ci sono migliaia di opere esposte e qui puoi sempre trovare qualcosa di veramente curioso facciamo un bel giro parliamo di una mostra che ormai abbraccia oltre 40 mila metri quadri espositivi oltre 15 mila artisti presenti in mostra rappresentati dalle gallerie più prestigiose italiane ma soprattutto sono i nomi degli artisti presenti che danno effettivamente la cifra della qualità dell'evento parliamo di artisti come Schifano come De Chirico Fontana parliamo di quegli artisti che hanno fatto grande il 900 ma soprattutto la possibilità di investire nell'arte l'arte sta segnando dei dividendi interessanti per chi ha investito e ha creduto nell'arte stessa sono incuriosito dalle fotografie del mio amico Red Ronnie e con alle mie spalle il Joker dalla fiera di Padova buongiorno mattino grazie a tutti grazie a tutti